Francesco Mazzei nei panni di Lino Banti Oh ragazzi, non benedetto chi c'è stasera, avete visto chi c'è stasera? Max Pieriboni, ha fatto quello reddo, mica orecchietto con il cibi di rapa Vai Max, ma non benedetto, quando mi piace quell'uomo Lui è Francesco Mazzei nei panni di Lino Banti Oh ragazzi, non benedetto chi c'è stasera, avete visto chi c'è stasera? Max Pieriboni, ha fatto quello reddo, mica orecchietto con il cibi di rapa Vai Max, non benedetto, quando mi piace quell'uomo